e poi questi sono dovrebbe essere l'uomo soto che si chiamano pupi con l'uova come si chiama? con l'uova bravissima grazie a tuo papà ciao le ho fatto vedere a tutti i leader europei il nostro continuo contrasto con l'emergenza del quotidiano, della vita quotidiana di cose che altrove sono normalità ti garantisco che è fattivo e a te l'avete appropriata è vostra adesso e di chi è la villa ora? no allora direi di da bene lui arrivava via mare via terra via terra viagra via 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 via